Rispetto al 2017 sono diminuiti sia il numero degli incidenti passati da 2169 a 2044, meno 5,8%, che il numero dei feriti da 2977 a 2787. Nel 2018 sono sensibilmente diminuiti anche i recessi da 27 a 20 con una diminuzione del 25,9%. Lo scorso anno si era invece registrato un aumento dell'8%. Su scala nazionale, sempre nel 2018, si sono verificati 172.344 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno provocato la morte di 3.325 persone entro il trentesimo giorno e il ferimento di altre 242.621. Tra le grandi città, quella in cui si è registrato il maggior numero di incidenti è Roma, 11.947 nel 2018, a Venezia soltanto 656. A Palermo, nel 2018, si sono registrati 307 incidenti stradali con lesioni a persone ogni 100.000 abitanti, valore superiore rispetto alla media nazionale, 285,2, ma fra i più bassi fra quelli registrati nelle grandi città italiane. Le città con il tasso di incidentalità più elevato sono Genova, 717,4 ogni 100.000 abitanti, Firenze, 657 e Milano, 621. Sempre nel 2018, a Palermo, si sono registrati 418,5 feriti ogni 100.000 abitanti, anche in questo caso valore più elevato della media nazionale, 401,5, ma più basso della maggior parte delle città italiane. Le città con il maggior numero di feriti per 100.000 abitanti sono Genova, con un tasso più che doppio rispetto a Palermo, Milano e Firenze. Le città con il tasso più basso sono invece, oltre a Palermo, Venezia e Napoli. Grazie a tutti.